Ciao, sono Caterina da Napoli e con una grande gioia vorrei raccontare un'azienda che produce il trasporto del futuro e ci prospetta vita lunga e salute personalmente io sostengo la tecnologia SkyWay sperando il futuro migliore e allora ci sono incontrati prima e non mi conosce vi dico che io sono Caterina, una datocelli allora con le qualifiche dell'investore, il leader della società SkyWay Community, io sono una mamma di esperienza nella comunicazione e nelle azioni in ambito medico di gestione di imprese private ed esperienza individuale nel settore delle ventite e dei servizi e anche io sono una specialità certificata di lingua italiana libero A2 e ancora sto studiando e adesso faccio i corsi di Università Federico II di Mediatore Sociale Europeo e allora avendo esperienza di comunicazione mi hai aiutato a creare un gruppo dirigente nella SkyWay che si è sviluppato in Francia, Giorgia, Polonia, Spagna, Italia, Germania e Israele e con l'aiuto del mio team allora in soli due anni sono stati investiti oltre di 13 mila dollari e tutto questo è successo grazie alla comunicazione online e anche per gli investimenti è diventato un processo irreversibile e a fine di ora ancora stanno continuando e le persone stanno investendo. Allo stesso tempo dello suo sviluppo in questa fase l'azienda ha offerto prodotti di informazioni certificati, attualmente le specialità più richieste e altamente contribuite pagate e in cui il mio team attivamente è coinvolto. Puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente c'era solo un'idea e il grande desinteressato lavoro del creatore di questo progetto. E ora ripresento la SkyWay community opportunità di offerte commerciali. Allora il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà di signor Anatoly Jumetsky con una storia di sviluppo 40 anni. La proprietà intellettuale del suo progetto è stimato 400 miliardi di dollari ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata un'azienda che ha già le migliori offerte del mercato. Allo stesso Anatoly Jumetsky ha già 73 anni ed è sicuro che a 1000% che tutto questo si realizzerà nel corso della sua vita. E lui non ha rifiutato questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo. Forse tutti avete visto già questo trasporto ma chi non conosce anche il racconto che SkyWay è un trasporto che si muove su rotaie ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono SkyWay che si trova su supporti che occupano poco spazio sulla terra e che influenzano l'ecosistema. I bacini idrici e foreste rinuncano i tratte. Il trasporto SkyWay è controllato da un autopilota. La caccia riduce il dinamica del trasporto SkyWay, contente di raggiungere velocità fino a 500 minuti in un'ora. E anche la costruzione della struttura linea Sky richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. e con la sua bellezza e comodità insicuro per oggi è diventato un trasporto molto richiesto e necessario per la nostra strata e molto comodo per migliorare i tanti servizi per oggi. E allora, tu potresti chiedere, ma perché non usiamo un'auto ibrida, no? Ma perché non usiamo un'auto ibrida? Ma io ti dico che, quando carichi un'auto ibrida, devi collegarla a una centrale elettrica. Prima di creare danni alla natura. Noi stiamo partecipando a questo progetto perché vogliamo salvaguardare il destino del nostro pianeta. I costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al porto su strada già esistente e la produzione di energia è al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende dalla centrale. E penso che andiamo più avanti allora. E vi dico che c'è un stabilimento di produzione, un centro di innovazione, Scharza e Minsk, dove lavorano 3.000 ingegneri, istruttori e esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione e di cui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia, che prima non era possibile. Quindi ogni dettaglio è fatto dagli materiali della racchetta e può essere molto utile e che vi racconto ancora. Allora, quando costruisci la costruzione della linea Sky consumi 20-20 volte o meno finuvie perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare i paesaggi, versare acqua e rompere le rocce. Per costruire questa strada sono necessari solo i solidi supporti con un binario di funghi per viaggi. e vi ricorderò che esistono tre tipi di passacorte, ridici, semiridici ed elastici, ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. Siamo anche quando un'auto accelera la sua velocità ad alta velocità, allora deve fare i conti con il flusso d'aria in arrivo. Si chiama resistenza aerodinamica. Il nostro Sky Transport è mila volte più facile da gestire e grazie allo scappo affilato e in grado di lancio a velocità di 500 km. E l'opportunità, in pratica, utilizzando questo trasporto, in realtà possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un realizzamento alla clinica necessaria. e speriamo che a tutti i servizi avremo in futuro semplice, anche per oggi già alcune cose sono disponibili, quindi già abbiamo i progetti realizzati e anche per adesso costruiscono le linee di Sky e per altri arabi. E come questo trasporto che già sono realizzati ad alta velocità, allora Unibus può raggiungere velocità 500 km in un'ora e con la sua capacità può spostare da 24 persone e con la sua produttività può spostare 500.000 passeggeri al giorno. e anche un trasporto urbano che può spostare un'ora di unico spiro. e anche un trasporto urbano che unico spirotaia può raggiungere velocità 150 km con la sua capacità può spostare fine di 168 persone e la sua produttività durante il giorno può spostare 50.000 passeggeri. e ancora Unicar per 8 persone con la velocità 150 km e ancora può spostare 50.000 passeggeri al giorno. eccetera eccetera abbiamo i merci e abbiamo fiscatori e abbiamo molti tipi di questo trasporto e per i molti servizi già hanno fatto molti progetti e già sono realizzati molti posti. è un centro innovazione c'è in città di Minsk in bella russia è possibile dove è possibile visitarli. allora Uniturk velocità fino a 50 km produttività un po' 200.000 tonnellate prodotti necessari e allora sappiamo che le strade sono congestionate da auto e con la loro emissione possono causare inquinamento e molte malattie. poi ci sono anche paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa di molti incidenti. negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 signor Antoli Uneschi scienziato, inventore, proteggista di navi volanti presentò il suo primo articolo che in cinque anni l'atmosfera sarà stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso Covid questa situazione esiste. la circolazione ha causato decenni problemi strada sovrafolata mancanza di sicurezza e dispendio di energia colossale e l'umanità ha danneggiato la natura e i paesaggi stiamo battendo foreste prasciucando fiumi, bacini idrici distruggendo montagne e sciogliere e quindi la natura risponde con visita e purtroppo questo è il motivo per cui il trasporto necessario è più richiesto nella storia dell'esistenza umana. e allora questi tipi di trasporto già sono stati realizzati in 2020 e dopo che ancora sta sviluppando nostra azienda e produsse questo trasporto e speriamo che presto strada per tutto e vi dico che ogni partner della società Skyworld Community è in una edificia qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrere aggiuntive dal programma di partnership di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati il vantaggio del fascino della nostra azienda sta nel fatto che una forte riunione rappresentanti di oltre 200 paesi per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile e di cui parlano progetti già realizzati pianificati e cosa succede a volte non si aprono così velocemente e allora è realizzati i nostri progetti già ci sono però vorrei dirvi che il nostro prof quando entri nella nostra azienda è è realizzare i reti dividenti guadagni da programma di partner l'ereditarietà disposizione sulla restituzione di denaro diventi con proprietario delle tecnologie partecipa a un progetto amstro pianeta blu passi alla storia come fino al troppo e crei capitali per una vita spensierata e hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite e quello che è più interessante per te è che il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni uneschi.engineer dove puoi vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati del signor Anatole Uneschi al quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro e i nostri profitti vi ho detto già e allora ricordiamo ancora i ratei dividenti guadani da programma partner l'ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro viventi con proprietario di tecnologie partecipano a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come fino al troppo e crei capitali per una vita spensierata hai la possibilità di viaggiare attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite e il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120 dollari per da soli 1000 dollari cosa non avrei potuto fare nella vita reale cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra o in quanti anni potrei risparmiare così tanto è per me che l'azienda skyward community è diventata il senso e il supporto della mia vita e allora di qua per te c'è importante una cosa che per te è importante che ci sia un prodotto reale che puoi visitare toccare e non ha bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti e l'ecotecnopark è stato realizzato ed operativo in bella russia nella città di marina corca l'emirati arabi uniti un particolare città di chandra nel centro di innovazione attorno all'università americana ecco qui non si spostano i slide forse è colpa di allora internet vediamo allora all'università americana dell'emirati arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università americana la distanza comprende 21 stazioni e ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto linea strada del futuro linea di sarja un attimo ecco qui questo all'università americana degli emirati arabi una linea di prova ecco qui a cosa stavo parlando linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università e questa distanza comprende 21 stazioni e ogni visitatore può sperimentare in conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto linea stringa del futuro e ora ti dico da dove prendiamo i nostri benefici allora il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare proprietari di tecnologie innovative e allora l'azienda Skyward Community è stata del che un riso che ha un riso che che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi. Ad oggi abbiamo già completato la quindicesima fase. A fine di 2022 la società Skyward Community è stata introdotta con il nome cambiato. E allora purtroppo i slide non viene così presto come li presentarvi. Non so forse allora questo è già questo allora l'anno scorso che Unesky Street Technology già è presentata con un nome cambiato così tecnologie delle stringhe Unesky. E allora i pacchetti partono da 250 dollari e arrivano fino a 150.000 dollari a secondo dell'interesse degli azionisti. Allora chi stanno registrando fermo sulla sua pagina possono essere disponibili anche perché quando noi vogliamo avere i dividendi invece di aspettare meno, meglio che aspetti qualche mila dollari per avere il senso di aspettare qualcosa. E allora il presentante di qualsiasi classe sociale può investire e è possibile usufruire anche di rate interni ad asso zero sul pacchetto azionario. E ti consiglio che non perdere il tempo per non ottenere maggiori informazioni e fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione o il contro per darti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa. E allora è dopo che si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione. A volte l'azienda offre offerte specializzate per la nostra famiglia, per i nostri bimbi, studiati, e che possiamo utilizzarli e migliorare per avere queste azioni con il minimo pagamento, con un'offerta specializzata. Vi consiglio registrarvi presto per avere maggiori informazioni sulla nostra azienda e dopo completare verificazione potete investire e accumulare qualcosa per la vostra vita per creare una vita spensierata in sicuro, quindi la nostra azienda vi garantisce un futuro migliore con una fel salute e una lunga vita. Allora, il trasporto, allora, in realtà il trasporto esiste, esiste davvero e si adatta a tutte le condizioni climatiche. Il suo corpo è resistente alle radiazioni, converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità. E ciò che è importante per te, alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale e più globale, unico e senza precedenti e cambia la vita in medio. Skyway è un trasporto che servirà la vita a milioni di persone, centinaia e migliaia di ettari di uccelli, miliardi di animali e uccelli e permetterà loro a ciascuno. L'azienda anche tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo di tutti i diritti del comproprietario tecnologie. Questo è un grande confronto. Il produttore e creatore, il signor Anatolio Uneschi, che presenta una relazione annuale sul lavoro svolto. La nostra azienda ha una disposizione del denaro se decidi improvvisamente di lasciare l'azienda ti offre di raggiungere più 4% a determinare condizioni restituire e restituire i tuoi soldi come mutuotario. Tuttavia, se qualcuno deve lasciare l'azienda con questa richiesta, però questo precedente non è stato finora rilevato. E vi ricordo che questo trasporto funziona tramite pannelli solari e anche il suo corpo può convertire l'energia solare in elettricità lavorando praticamente senza sosta. I termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti. I termini di inquinamento siamo a zero sostanze nocive e quindi nel sudano per la natura non esistono. I termini di incidenti è più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti. non è un problema per la natura non è un problema Allora, ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo, trasporto maritimo, terrestre e aereo e tutti i tre tipi creano danni alla natura. E anche noi sosteniamo in questo progetto quindi linea stritta cosa intelligente materiali ecologicamente puliti automatizzati e dotati di energia solare allora questo progetto è soddisfatto tutte le aspettative del signor Anatole Iuneschi dove servirà il trasporto linea stritta i nostri bisogni quotidiani e la natura saranno preservati questa è la nostra salute e sopravvivenza come l'immagine mostra chiaramente dove è stato realizzato il progetto questo progetto pilota in quanto è pulita l'atmosfera e noi stiamo partecipando a questo progetto perché è innovativo soprattutto è ecologico e ricorderò di nuovo i nostri profitti quando entri nella nostra azienda finisci registrazione e anche verificazione tu avrai possibilità avere diretti della proprietà di questo progetto allora di proprietà tecnologie allora i dati e i dividenti e i guadagni dal partner e l'editarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventico proprietario di tecnologie e partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come finaltro poi crei i capitali per una vita spensierata e hai la possibilità di viaggiare per Dubai e non solo Dubai anche per la Russia anche America anche tutti i paesi dove saranno costruiti queste città lineari o solo la linea di Skyway e abbiamo anche attestato di formazione in specialità impegnative e altamente attribuite il valore del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni che è più importante per te e d'accordo con i tuoi interessi quando entri nella questa azienda per cambiare la tua vita e migliorare e allora vi devo salutare io sto facendo questo lavoro anche dal mio posto di lavoro che sto dove sto da quattro anni e tutto questo sto facendo a distanza dal mio posto di lavoro purtroppo a volte c'è rumore e c'è qualche scopo che a volte posso completare e a volte esce sul video oppure l'umore che non deve esistere nella presentazione e perdonatemi per questo e allora con vi parlava Taterina da Napoli era società Unitsky Stream Technology con le sue offerte e opportunità e sono stato attratto dalla qualifica di investore leader e un speaker di questa società e grazie per l'attenzione saluti a tutti a tutti Grazie a tutti